Con la prova di esame finale e la cerimonia di consegna degli attestati ai 22 partecipanti al corso in politiche e strategie delle società calcistiche si è concluso il secondo ciclo formativo del progetto didattico dell'Università degli Studi di Teramo. Il corso gode dell'accreditamento della Federazione Italiana Gioco Calcio. Il coordinatore didattico Giuseppe Tambone. Secondo anno Università di Teramo percorso di accesso diretto all'esame di abilitazione per direttori sportivi che si svolgerà il prossimo 27 giugno a Coverciano. Sì, svariamo da tutta una serie di elementi, di materie che possono dare la possibilità a chi lo frequenta al di là dell'abilitazione federale di poter scegliere un percorso che è quello del direttore sportivo classico, delle figure dirigenziali come direttore generale, segretario sportivo, segretario generale, team manager e poi tutta una serie di funzioni all'interno del club per quanto riguarda la comunicazione, il marketing. E quindi vogliamo cercare di dare... Una formazione a 360 gradi, potremmo dire così. Io dico una cassetta degli attrezzi ai futuri dirigenti per riuscire a essere concreti e soprattutto preparati, perché non è più il tempo dell'improvvisazione. L'esperienza sul campo senza dubbio aiuta, ma non è determinante. No, assolutamente. Non basta più essere stato un bravo calciatore, bisogna aggiungere una base di preparazione che è molto dura e che è molto selettiva. 230 ore di lezione da dicembre a maggio. Abbiamo notato anche la presenza tra i corsisti di Lores Varela. Insomma, io ho parlato spesso di questo giocatore, mi è sempre piaciuto. Grande qualità, talento secondo me, evidentemente in espresso. Adesso credo che abbia 33 anni o giù di lì. Il 91 di proprietà della Villino, reduce da un infortunio grave al ginocchio. Ci ha messo un grandissimo impegno. Era sempre presente, chiedeva nuovamente materiale per approfondimenti. Ha vissuto questa esperienza con l'atteggiamento giusto di chi vuole fare questa attività, vuole entrare nelle società quando smetterà di giocare a calcio. È un ragazzo che dà un segnale. Per l'Università di Teramo è il primo calciatore, però dà un segnale forte che, quello che dicevo prima, serve una base di preparazione molto forte per poter poi mettere a profitto quello che si è e si fa nel campo. E da ultimo, non certo però di importanza, una novità pianificata per la prossima stagione. Quale? Partirà un corso che è una chicca, credo, a livello europeo, che è quello di manager di sostenibilità del calcio. È una figura che sta diventando obbligatoria. Lo è già in Serie A e da settembre in Serie B e dal prossimo anno probabilmente in Lega Pro. Quindi è una figura che l'Università di Teramo cercherà di formare con il patrocinio e la collaborazione della Federazione Italiana Gioco Calcio che ha creduto in questo progetto.